... Prima serie, 400 stile libero ragazze. Prima serie, alla 1 Anna Chiara De Vettori, Idros, alla 2 Camilla Labberti, Vittoria Lata, alla 3 Erika Cesconi, Idros, alla 4 Zeudi Callagher, Idros, alla 5 Irene Marinti in Veneto, alla 6 Suadela e Vittoria Lata, alla 7 Giada Sartorato, Idros, alla 8 Chiara Bonaspetti, Vittoria Lata. Il record della manifestazione, ragazze, primo anno, Sophie Louise Nimb, 2, 4, 26 e 26 del 2013, ragazze, secondo anno, Mattilde Volpi, 4, 23 e 16 del 2011. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Siamo ai 300 metri con Anna Porcari sempre in testa, 35 e 43, gli ultimi suoi 50 metri dalla corsia 7. 35 e 02, 350 metri per Anna Porcari, classe 2006 del team Veneto, gareggia in corsia 7. Anna Porcari, 4, 34 e 37, si aggiudica la seconda serie della categoria ragazze. Grazie. 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 Grazie.